Guardavi solo me mentre cantavi salata, l'occhiastra mi ponteva, sciubidù. Producono e servono la loro musica. Lo stile inconfondibile dei Montefiori Cocktail ha contagiato anche Santa Croce di Magliano, penultima tappa dell'open tour del Lady Leg Jazz Festival, che sul palco di Piazza Crapsi ha proposto un concerto carico di ritmo. I fratelli Francesco alla tastiera e Federico, sassofonista, flautista e voce, sono stati protagonisti di una serata molto coinvolgente. Brani composti da loro, cover di classici della musica da intrattenimento. Un duo musicale molto richiesto e già presente in numerose compilation, che ora si avvale anche di una voce femminile. Con questo loro modo di intendere la musica lounge, i gemelli Montefiori hanno riportato la più frizzante, divertente e contagiosa cocktail music made in Italy alla ribalta internazionale. Nel corso della loro carriera hanno realizzato otto album. Le loro composizioni sono state utilizzate per numerosi spot pubblicitari, jingle e sigle radio-televisive. Tra queste la sigla del programma Affari Tuoi, la partecipazione alla colonna sonora del film L'Ultimo Bacio e a quella della serie Sex and City. E il singolare percorso musicale, firmato Montefiori Cocktail, continua. E' tutta quella gente che non sai tu.